Lavoro terminato, quanto siamo soddisfatti? Tanto, nonostante tutte ci siamo organizzati all'ultimo per fare questo studio, ma è venuto con Tov e la fotografa bravissima, lui mi ha giocato, sono veramente felice, perché ci siamo un pochino stati, però c'è la roba, ma io non ti vergogli, non sei vero, non ti vergogli a lui, non ti vergogli. Una ragazza stupenda, lei tra parti, paella, discoteche, moto d'acqua, veramente, ciao!